Abbiamo approvato oggi un provvedimento in giunta abbastanza importante, abbiamo introdotto come avevamo già promesso un'agevolazione che riguarda il commercio, gli artigiani e anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Abbiamo ridotto l'aliquota che era stata deliberata a giugno dal 10,6 al 7,6, quindi sostanzialmente pagano con l'aliquota IMU, con l'aliquota base stabilita direttamente dalla norma statale. Abbiamo dovuto in effetti definire qualche punto a vantaggio del commercio e degli artigiani disposti in città all'interno di determinate metrature, con questo abbiamo voluto favorire i negozi di vicinato, proprietari delle loro attività e quindi contribuenti per quel che riguarda l'IMU ed è un risultato molto positivo considerando che è stato un sacrificio importante per l'amministrazione comunale. Grazie.